Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 3 km di coda per lavori tra Valdichiana e Monte San Savino e code tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico. Sempre verso Bologna, corsie di sinistra chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandici. In A11, un chilometro di coda tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. In Filippillicode per lavori tra Empoli Ovest e San Minato verso Livorno. Spostandoci sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze è partito il servizio della linea T2 della tramvia che resterà gratuito fino al 24 febbraio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!